Un saluto dal Tg della Mobilità. Dopo l'installazione dell'attraversamento luminoso in largo Ambaradam, i progetti riguardano ulteriori quattro attraversamenti pedonali. Lavori in via Leignuton e via Pietralata sono completati e in via della Consolata sono in corso, mentre il cantiere in via Casilina è in fase di avvio. A differenza di quanto fatto per largo dell'Ambaradam, dove l'accensione delle lastre viene solo in fase di verde pedonale, nelle nuove installazioni realizzate su attraversamenti pedonali privi di impianti semaforici è prevista una illuminazione mediante dispositivo crepuscolare, emessa da singole pietre in resina speciale, a tossiche e riciclabili, con un'ottima resistenza al passaggio delle auto. Il sistema inoltre non emette CO2, non contribuisce all'inquinamento luminoso e a un basso consumo elettrico. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.